Nonostante la forte dipendenza dal Made in Italy e dalle esportazioni, il sistema produttivo abruzzese ha retto, anzi regge. I numeri della crisi sono in media con l'arresto del paese. Ora è il tempo di fare le riforme e politiche economiche che la classe politica abruzzese non ha avuto il coraggio e la lungimiranza di fare da almeno 40 anni. Perché le finanze pubbliche non sono più quelle del 97, quando si faceva debito pubblico a go-go, debito pubblico a go-go che oggi stiamo pagando. Pensavamo che allora stessimo facendo del bene, in realtà stavamo facendo del male alle future generazioni. C'è una generazione italiana che è la prima volta nella storia che sarà peggio della precedente e questo è dovuto allo sperpero che c'è stato negli anni precedenti. Oggi ci sono le condizioni e la necessità di scelte anche impopolari elettoristicamente, ma che gli abruzzesi saprebbero comprendere. Conclude così il suo intervento il governatore della regione Gianni Chiodi al rapporto di IMSS e Abruzzo Lavoro su impresa e lavoro. Ha individuato in 4D la sfide da affrontare e che il suo governo già sta affrontando. Innanzitutto il debito pubblico è sceso per la prima volta in dieci anni, sceso appunto dai 4 oltre miliardi di euro agli attuali poco più 3 miliardi e mezzo merito del rigore della finanziaria regionale. Una politica di rigore che proseguirà con la prossima finanziaria. L'obiettivo risanamento è fissato al 2012. Il deficit infrastrutturale, un ritardo che l'Abruzzo si porta dietro da 40 anni. Il livello del sistema aeroportuale, portuale, ferroviario è assurdamente basso rispetto alla media nazionale. Il dualismo territoriale, tra colline e mare, piccole e grandi imprese, che ha condizionato più opportune politiche comuni con sprechi di risorse. Il deficit sanitario, che implica un divario fiscale con le altre regioni, l'87% di aumenti di addizionali rispetto al poco più del 20 nelle altre, rende sconveniente investire in Abruzzo. La politica abruzzese, assicura chiudi con il suo governo, ha cambiato rotta, con una politica economica di medio e lungo periodo, che non teme la perdita di consenso. E' questa nuova e rigorosa strategia che ha suggerito le scelte compiute con i fondi FAS, FESR e Sociale Europeo, l'accordo quadro sulle infrastrutture e il masterplan elaborato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico.